Ciao a tutti i miei followers e in particolare il nuovo amico Steven che poco fa si è iscritto Ciao ragazzi, io sono Francesca e oggi vi leggerò La Regina delle Nevi Ecco qua, abbiamo il libro La Regina delle Nevi C'era una volta un demone che aveva fabbricato uno specchio malefico che trasformava in un malvagio tutto ciò che vi si specchiava Un giorno lo specchi andò in mille pezzi e gli frammenti si sparsero per il mondo penetrando nei cuori della gente il cuore che veniva colpito era trasformato in un cuore di ghiaccio senza più alcun buon sentimento Uno di quei frammenti entrò anche nel cuore di Kay un ragazzino buono che coltivava magnifiche rose sul suo davanzale facendo gara con la sua amica Gerda che abitava di fronte a lui Da quel giorno Kay divenne cattivo e invidioso e faceva di tutto per dare dolore a Gerda Una sera d'inverno Kay, mentre guardava la neve che scendeva dal cielo vide fuori dalla finestra una bellissima signora tutta di ghiaccio che sorrideva e sembrava chiamarlo Egli non poteva resistere, così apre la finestra e la raggiunse Da prima Kay si sentì gelare, ma la bella signora che era la regina delle nevi Lo baciò e lui perso ogni sensibilità Poi saliti su una slitta di argento tenata da aquile I due si allontanarono nella notte verso il regno delle nevi Il giorno dopo Gerda cercò in vano Kay Il ragazzo era introvabile, così la ragazzina in nome dell'amicizia partì per andare a cercarlo per il mondo Camminò e camminò per monti e valli chiedendo di Kay a chiunque incontrasse Ma nessuno era in grado di darlo una risposta Un giorno Gerda fu catturato da una banda di orchi che la trascinarono nel loro orrendo covo Un castello abbandonato e cadente Sarà un ottimo pranzetto, disse l'orchestra madre Niente affatto, replicò sua figlia Voglio giocarci e farne quello che vorrò Quanto a te, disse poi a Gerda Raccontami qualcosa di interessante Ma bada di non annoiarmi Altrimenti Ella minacciò con un gran coltellaccio Gerda Gerda, allora si mise a raccontare la sua storia Alla fine l'orchestra figlia commentò Beh, la storia è curiosa e mi è piaciuta Per di più ho proprio visto la regina delle nevi passare in slitta con un ragazzino Sicuramente era il tuo Kay Era diretta al polo nord Dove è il suo castello? Vuoi andarci? Prendi questa regna e scappa Prima che io mi penta di quest'atto di bontà Da prima Scusate La renna e Gerda garparano nel gelo per giorni e giorni Fino al bellissimo castello della regina delle nevi Tutto fatto di ghiaccio Gerda rientrò e trovò Kay che giocava con dei cubi di ghiaccio Gli aveva dato la regina proibendogli però di formare la parola Eternità Se la componessi dovresti tornartene a casa Gli aveva detto Da prima Kay non si curò di Gerda ma quando lei lo abbracciò prendendo le sue lacrime sciolsero il cuore di ghiaccio di Kay che la riconobbe Gerda ma che facciamo qui E per lo stupore lascio cadere i cubi che formarono la parola Eternità I due ragazzi riuscirono così a fuggire dal castello e dopo un lungo cammino poterono tornare a casa a coltivare le loro rose Fine Ciao ragazzi Questo era il libro La regina delle nevi Lasciate un like se volete che vi racconti un'altra favola Ciao 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 Ciao